Eccoci ragazzi, siamo arrivati a Juventus-Fiorentina. Sarà una partita tosta ma dobbiamo vincere ragazzi perché arriviamo a due sconfitte consecutive, quindi cerchiamo di portarci a casa questa vittoria. Mi raccomando Juve, mi raccomando. E' iniziata ragazzi, dai, come vada vada, spremiamo una vittoria fino alla fine, forza Juventus, dai ragazzi eh. Voglio vedere una partita come abbiamo fatto contro lo Zenit. Buonaventura, colpo di testa per ieri che deve fare la parata, Closti-Saponara, qua è da solo, buonaventura ragazzi, qui è da solo, Alexandro in ritardo, ora vi ho che guarda, e già giù i ragazzi stacca. Vai Morata, vai Morata, vai Morata, vai Morata, Morata, si è scarato, porca miseria ha perso il tempo, mette la parola al centro, Di Bala, tiro, no, alto. Ha perso il tempo di calciare, Morata, si è la scartola, va che te la ciano. Odiozola, ancora un ricordo al centro, Saponara da solo, mamma mia ragazzi, Saponara da solo, male di rigore, alto sopra la traversa, che rischio, che rischio. Buonaventura che scappa, siamo alla che, che Rabiot, poi Odiozola passa in mezzo a due, troppo facilmente tra Alexandro e Rabiot. Crosso al centro, qua Rugani se lo perde, meno male che la palla è alta ragazzi, meno male, meno male. Gli palla al centro, attenzione. Per la Fiorentina, per gli avanti dal volo. Eh ragazzi, non lontanissimo, altra occasione per la Fiorentina. Con il privato, se di destro, per deviare, movimentato di primo tempo, non il premium, Saponara. Buon ragazzi, fallo non dato di mano, Danilo comunque faceva così, tendeva a chiudere il braccio e non allorgarlo, quindi per me è giusto così, una Juve adattale Nantes, c'era nel secondo tempo. E' iniziato il secondo tempo ragazzi, dai, dai, su, proviamo a fare qualcosa, abbiamo fatto poco nel primo. Vai, vai Morata, vai Morata, vai Morata, tiro di Morata, oddio! Bello sto sombrero di Morata questo tiro ragazzi, guarda che bel sombrero, poi tiro col mancino ma... Niente da fare, per poco fuori ragazzi, hanno ancora la palla loro, Saponara, sbaglia, dai, dai, ripartiamo, ripartiamo, non c'è nessuno, dai! Fuori dai coglioni, Milenkovic. Oh, fuori! Cosa ti dicevo? Se rischi una, diciamo, leggerezza, lui secondo me se non è reso conto perché rimane lì, senza protestare, a 70 metri dalla porta. Locatelli vuole un nuovo chiesa, fa un po' altra... Ma è chiesa! Chiesa! Oddio che traversa di chiesa! Che traversa di chiesa! Che traversa di chiesa ragazzi, cosa ha fatto? Cosa ha fatto con Biraghi, Marona che si non ha stampato ragazzi? Mamma mia che traversa ragazzi! Ma noi ultimamente con i legni, con i paesi, attraverso, abbiamo fatto l'abbonamento ultimamente, è incredibile, è incredibile, è incredibile! Comunque abbiamo chiesa, bravo! Vai puntalo! Vai guardo! Cross al centro! Murata! Fuori in gioco, porca! Fuori in gioco, cazzo! Giallo per Anastasi, c'è un po' piuttosto duro di Anastasi, non è finito! E' ancora la nostra, vai Pellegrini! Uno contro uno, di Pellegrini quadro io so, là c'è vicino Locatelli, Pellegrini passa, la sono ora 27, poi... Mi va la scucchietta per Murata, 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 Murata! Tira! Murata davanti alla porta, si mette il gol! E' uscita anche lei, c'è anche una baglierina che si alza... E' fuori gioco! Ma poi davanti alla porta, lì bisogna segnare, Murata! Ah, bisogna segnare! Troppo esitato, troppo! Ma sempre fuori gioco ragazzi, se la calciano su una mano, se l'è calciata! Vai Chiesa, vai Murata! Dai, dai, quadrato, vai! Cross al centro! Chiesa! L'ho pulato Terracciano! L'ho pulato Terracciano! Chiesa, porca miseria! Stiamo attaccando, non entra sta palla! Quello, quelle grini che poi vanno per terra, si guadagna al fallo... Sì, nell'occasione precedente... Allora, quadrato, punta! Uno contro uno! Punta! Quadrato! Palla al centro! Gool! One quadrato! One quadrato! Gool! Quadrato! Sì! Sì! Padrato! Sì! A 94! A 90esimo! Chi se ne frega! Sì! E la Juventus! E la Juventus supporto in vantaggio! Tutto l'Allianz Stadium! Sì! E balla, vai! Balla! Grande quadrato! Punta Viraghi! Se lo mangia! Tiro! Trappale e portiere! Infatti anche quello... Lui guardava... Non da qui, forse lo capiamo meglio su Viraghi... C'è stata la deviazione di Viraghi... C'è stata la deviazione di Viraghi... C'è deviazione, ragazzi! Grazie alla deviazione c'è il gol di Viraghi! Forse è quasi anche autogol, perché non era appunto in porta questo... Non lo so, anche poi l'autogol, la Lega, un gol al quadrato... Ma il gol intanto c'è! Dai, cazzo! Eccolo, giovane brasiliano all'indietro da Pellini... Vai Chiesa! Vai Chiesa! Vai Chiesa! 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 Tira pata di Terraciano! La pata di Terraciano, ragazzi! E non fischia! Ragazzi, siamo a 1.20, ma battono anche il calcio d'angolo! Sì! È finita! È finita! E vinciamo, attore! Andremo a vincere anche il campionato! Sì! Corto Muso, però! Non troppi gol, ma corto muso, vittoria 1-0! Bravo Quadrado! Bravo! Che è entrato e ha spaccato la partita! Fino alla fine, forza Juve! Sì! Sì! E' entrata! E' entrata! Wow!